L'importanza dell'informazione libera è alla base della democrazia, lobby di ricchi e spregiudicati faccendieri da sempre hanno puntato a mettere le proprie grinfie su televisione e giornali in modo da plagiare le menti con tutta una serie di menzogne. La popolazione viene resa schiava, rincoglionandola davanti alla televisione, in un lurido teatrino dove addirittura la morte e le tragedie personali vengono trasformate in spettacoli per dilettare tutta una massa di rincoglioniti che in questo modo vengono ipnotizzati dalla televisione e così a suoi fatti seguono i telegiornali e tutte le trasmissioni atte a fare propaganda politica. La televisione per molti italiani è divenuta un membro della famiglia, un compagno che ti parla in sottofondo intanto che svolgi le faccende domestiche, un amico a tavola. In Italia la televisione è un organo politicizzato che ha il fine di plagiare le menti di tutti coloro che hanno una vita noiosa, un basso livello di socializzazione a causa del tipo di vita svolto e che quindi si creano a livello subliminale una propria vita dentro la televisione. Per scoprire cosa stia succedendo occorre dividere gli italiani in tre categorie. La prima categoria rappresentata da chi non ha la televisione e accede solamente all'informazione libera via internet vota per il 64% il Movimento 5 Stelle, la seconda categoria rappresentata da chi guarda la televisione ma non disdegna internet vota il Movimento 5 Stelle per il 27% e la terza categoria rappresentata da coloro che non hanno internet e che quindi obbligatoriamente ricevono solamente l'informazione plagiata della televisione non vota affatto il Movimento 5 Stelle e ritiene che questo sia pericoloso e antidemocratico. Gli italiani più evoluti fanno parte della categoria che non ha la televisione, statisticamente è stato provato che chi non ha la televisione ha un livello di intelligenza superiore alla media, chi non ha la televisione segue l'informazione libera della rete attingendo alle fonti di proprio interesse, in rete l'informazione non ha un padrone e chiunque può anche partecipare attivamente esprimendo il proprio parere personale e contribuire alla formazione di un pensiero collettivo. Gran parte degli italiani ha la mente plagiata dalla televisione, il legislatore consapevole di questo pericolo ha disposto che i titolari di concessioni televisive fossero ineleggibili, ma la legge viene dopo gli interessi dei potenti. Diana, la sicurezza di ciò che è familiare, la tranquillità della ripetizione. Porca vacca!